Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video. Questo è il settimo vlog in cui vi porto in campagna. Inizierà così, con io che vado, cioè come? Mi sto componendo, vabbè. Sto passeggiando giù, sto un po' di vento nelle campagne e come vi ho detto nello scorso vlog, non c'è assolutamente nessuno, nessuno maiuscolo a caratteri cubitali con noi. Quindi non c'è nessun piccolo. Vado la intro. Allora, non so bene in realtà cosa fare. Perché io sono venuta anche per farmi qualche fotina che vedrete su Instagram, che vi metto proprio qua. E se vedete le riprese un po' così, ondeggianti, perché a parte che c'è vento, ma a me piace non tenere così, perché lo trovo scomodo, ma lo tengo sempre di lato. E vi faccio vedere anche il mio outfit. Questo è l'outfit che ho, scarpi da ginnastica, gonna e cinto. Magari appoggio il telefono da qualche parte e ve lo faccio vedere un po'. Ok, allora, questo è il mio outfit che faccio anche in giro. Questa è una golla in pelle, che in realtà sto usando perché c'è un pochino di spettino. Lì invece il mio outfit sono scelto, perché non c'è usato con me. L'outfit che comprende anche la coda alta di Cavallo, perché se gli l'accesso ti volano così così. E qui che sta facendo le riprese è... Michael! Ok, ora stacco e vi faccio vedere un po' il paesaggio. Allora, come avete potuto ammirare, diciamo? Cioè, sì, della clip precedente vi ho mostrato un pochino il paesaggio. Io sto girando un po' perché non so perché... Ho appena cambiato il telefono di mano. In realtà questo è un video vlog per vedere cosa faccio. Ma in realtà non sto facendo niente. Quindi volevo portarvi un po' con me, semplicemente perché anche voi fate parte della mia vita. E stiamo crescendo anche tantissimo su YouTube. Infatti siamo... cioè, sono già 27 iscritti. E sono felicissima. Grazie mille. E... Un grande bacione. Allora, vi faccio vedere... Non lo so, ci sono solo alberi rotopresse. Quindi non so quanto vi possa interessare. Penso che questo video durerà 6-5 minuti. Il vlog, invece, che avete visto martedì, è durato 3 minuti e 26 secondi. E... Al registro dove sto andando e nel frattempo vi parlo anche. Ciao. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con il problema di The Sims e mi dispiace tantissimo.